20.000 euro sono in arrivo al MEIER, una donazione importante, come pensate di utilizzare questi nuovi fondi? Allora, questi 20.000 euro saranno utilizzati per il sostegno a un progetto, il progetto Bambini Più, che è uno studio epidemiologico, quindi molto rilevante per la prevenzione delle malattie del bambino. Benissimo, più in generale, allora mettiamola così, un giudizio su questa attività di social crowdfunding? L'attività è in realtà in parte nuova, ma nella tradizione di relazione tra la fondazione MEIER, tra l'ospedale e i suoi donatori, l'aspetto del social è assolutamente rilevante. Qui c'è uno sponsor, Banca Dinamica, si vede alle mie spalle anche il soggetto dinamico, amica del MEIER, che mostra l'efficacia e i risultati, li vediamo, li tocchiamo con mano. È una donazione importante, è stata raccolta attraverso un'attività social e noi su questo puntiamo molto per il futuro.